lascia un mi piace iscriviti attiva la campanella buonasera buonasera a tutti buonasera buonasera a tutti ma tu stai registrando stiamo dando la buona sera buonasera a tutti siamo a casa della trevisano a cui si prende ecco il salone del tè eccolo qua abbiamo fatto una cena più che te una crepe sucre di confidio ma abbiamo anche arianna abbiamo anche arianna in tutto ciò che mi amo molto ciao ari abbiamo anche tuo figlio che sta di là e abbiamo la trevisano e la trevisano che è di una bellezza sconvolgente ogni volta che la vedo più bella vabbè io domani vado a milano mi raccomando seguitemi in televisione anche tu mi devi guardare ti devo seguire domani dopo le 16 sono le due se senti una che corre dietro il treno sono io va bene allora buonanotte ragazzi vi vogliamo bene buonanotte ciao ciao grazie per la visione iscriviti al canale attiva la campanella per noi è importante resta sempre aggiornato